campionati importanti aiuti dal comune aiuti al casino come andrete aiuti per adesso pare che non ce ne siano vedremo di far forza cioè di far conto su solo sulle nostre forze cercando di risparmiare il più possibile nonostante le due trasferte in sardegna che penso che siano molto molto onerose subentra a renato condo che dopo 30 anni di presidenza subentriamo sì io e mario come in qualità di vicepresidente con un ringraziamento particolare a tutto quello che ha fatto renato condo è quello che che ha fatto il la buonanima di fulvio ceccoli che prematuramente ci ha lasciato sarà un campionato impegnativo quindi dovrete impegnarvi molto come società gli allenamenti sì come società ma soprattutto i ragazzi che hanno stanno dimostrando un'ottima volontà un entusiasmo non indifferente per cui confidiamo di disputare un campionato di serie b magari non nei primi posti ma sicuramente neanche negli ultimi dopo aver vinto il campionato alla grande l'anno scorso rimanere imbattuti per tutto il campionato quest'anno ci proverete di nuovo no? Ci proviamo anche se la diciamo le livello delle squadre che partecipano al campionato di serie b è decisamente diverso l'anno scorso in c c'erano molte più diciamo un tasso tecnico decisamente più basso e sicuramente in b non riusciremo a ripetere l'esploat la performance dell'anno scorso i ragazzi ricordando Fulvio Ceccoli ci metteranno il 100% il 200% perché Fulvio ha lasciato veramente un grandissimo vuoto e questo ricordo sicuramente è uno sprone eccezionale per cercare di fare il meglio possibile se prossimo anno proveremo a fare la serie b a tutti i cosi vogliamo farla perché questi ragazzi se lo meritano e cinque anni che facciamo la serie c quest'anno ce la siamo vinti sul campo e proviamo a fare la serie b un campionato impegnativo sarà qui si molto impegnativo perché abbiamo due squadre che giocano in sardegna faremo due trasferte in sardegna poi c'è il piemonte lombardia facciamo un po di un po di giro tutta l'italia più o meno la squadra rinforzerete o giocherete sempre con ragazzi di sanremo della zona tutti di sanremo giochiamo con tutti saremo abbiamo una bella rosa e forse mancherà uno che è molto importante che castagno perché col suo lavoro non potrà venire però diciamo che abbiamo una bella squadra il vostro obiettivo quale sarà salvarci prima di tutto primo anno provare a salvarci e vedere come per fargli capire come la serie b a questi ragazzi quindi anche per il pubblico di sanremo sarà bello vedere una squadra di serie b giocare un campionato importante sì perché giochiamo il doppio incontro giocheremo al sabato sera sabato pomeriggio sabato sera e troveremo delle belle squadre si vedrà un po di baseball di nuovo a sanremo quindi mario cuneo rimane in questa società in questa squadra e allenerà la prossima serie b sì prossimo anno ancora così